Amici, signori e venditori di patate, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi penso che vi farò divertire in un server di... Ed eccoci qua, belli laggosi con i nostri 30 fps, visto che oggi Minecraft fa veramente schifo. Perché non vuoi farmi un paio di fps in più, eh? Ti vuoi riprendere gioco? Guardiamo questo fottutissimo letto, potrebbe benissimo guardarlo con l'enso. Vediamo un po'. Eccola qua, buona. Che cazzo. E' il doppio rumore. Minecraft ha leggermente baggiato. Se non diciamo abbastanza. Vabbè, dovrei anche muovermi, visto che è un minigame. Avrei... Non è abbastanza. Dammena ancora. Il ferro. Non voglio il fierro. Non è abbastanza male. Marca putta. Ne fa sempre pochi, vabbè. Allora, questo video farà schifo. Quindi, se volete già abbandonarlo, non mi ne spiega. Non mi ne spiega, non mi ne spiega, non mi ne spiega, non mi ne spiega, non mi ne spiega. Non mi spiega, non mi spiega. Non mi spiega, non mi spiega. Non mi spiega. E' un po' di lana. Ok. cattento ragazzi ho dei povoli problemi ok manca poco eh questa mappa l'avevo già giocata diverse volte ma non l'ho mai portata in video ma il rosso è morto io direi che se riusciamo con i diamanti ci facciamo un bel sharpness esatto vengo ancora un pezzetto grazie abbiamo un bel po' di uova dobbiamo benissimo andare al centro questo suono doppio dei blocchi che si piazzano mi dà fastidio stavo per volare qui sotto che bello ma in teoria infatti c'è un altro generatore sotto in teoria se io vado qua dovrei trovare uno smerallino uno smerallino direi che ce ne torniamo in base dove ho fatto il ponte esattamente qui ce ne torniamo nella nostra vecchia basettina e ci facciamo la spada di diamante tu riesco a craftare no? cioè non craftare prendere allora spade spade di diamante esatto questa la mettiamo qua prendiamo spugne milk mele d'oro boh quanta roba aspetta con un altro pezzettino di ferro posso farmi la fireball si esatto due mele d'oro direi che siamo messi abbastanza bene direi non ho cioè non ho ferro spona ferro ma io direi ma andiamo guardalo sto pezzo di me ma va quanto vieni qua ah puoi salire guardalo pezzo ops qualcuno è morto qualcuno è fortunatamente morto allora ci prendiamo potremmo posso fare protection si che la possiamo fare posso anche aggiungere ace guardalo dai però non ci credo sono stupido guardalo adesso ci riprendiamo mele d'oro spada di iron ci facciamo blocchi un botto di blocchi anche due diamanti due diamanti ti lascio nell'ender cioè io direi che vado ad attaccare il rosa a questo punto lui è attaccato a me io attacco a lui non è così quattro diamanti usiamoli per un upgrade ma da dove probabilmente sarà difficile vincerla questa questo questo fornano in base a sua mi sa vero? si eh rega io a sto punto scendere qui ecco ecco da dove è arrivato quello stupido schifoso nanerottolo plug si spada ferro cioè di diamanti dovrei rompergli il letto ma come non ho nulla soltanto dell'oro e con l'oro posso farci lo vedo è là in fondo ok sta venendo da me eh se lui viene da me io nulla blocchi e si rompergli il letto questo qui guardate 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 non scende eccolo l'estero to devi morì ma ok vabbè va bene no abbastanza di male devo fare per forza protection 3 già ma forse la vinciamo forse rega però devo rifornirmi bene io voglio protection 3 però voglio anche la fornace red full non so neanche cos'è forse sentito 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 di sopra non mi ha tolto manco mezzo fuori cioè mi ha tolto mezzo fuori posso fare la fire charge fire charge fire charge presa questa è buonissima abbiamo bisogno di meli d'oro massimo di meli d'oro un po' di tnt si va ad ammazzarlo quello schifoso posto i si per cadere teoria lui è venuta da spesa Non ce la posso fare Non ce la posso fare Qua è il fine di più Vola giù Vola giù Ti piace? Ti piace che ti ammazzo? Mestro Muori Muori Cuore Non ci credo Dai però No Dai raga Ci aveva un fottuto cuore Anzi mezzo Perché quando ti diceva uno vuol dire fino a me Non c'è una ciotola per rimprescarci Almeno si sono rimpresi gli FPS Cavolo Secondo gaming Oggi voglio farvi un paio Bella mappa Bella mappa Da minerali magari Subito Così si va Subito verso i diamanti Raga Anzi subito Occhillare quello là Non ci credo Non ho abbastanza blocchi Già Tanto mi sto mangiando Un po' di chocolate Guardate no Con il tappetino tutto sporco Che cavolo Spada di ferro Non è il mio vero o no? Ok Al vicino c'è soltanto quello là No sta tornando Io direi Affilate Sharpness Poi me la doro Un botto di blocchi Guardalo Non sta ben capendo Che buono Nel giù Ma va a fare Incubo Va a fare Io direi che gli andiamo Anche a spaccare il letto Dai Devo far vedere Che sono l'imperatore Delle badgers Adesso lo sfasciamo Vieni qua Vieni qua Muori Muori No Devi andarti in affari Questo mi ha rotto Già Lui ho però Ma va a fare Un cubo Ma va a fare Il cane perché Deve romperle melle Oggi nulla Una è andata bene O più o meno Cioè Più o meno bene Mi avevo anche quasi rotto il letto Però va bene così E nulla ragazzi Questo video delle badgers Vabbè Questo video delle badgers Finisce qua Noi ci vediamo Prego Marti Italiano Noi ci vediamo Ad un prossimo video Vi ricordo di lasciare un mi piace Commentare Se il video vi è piaciuto Iscrivervi al canale E noi ci vediamo Ad un prossimo video Ciao Il cane sottofondo Mi ha letteralmente rotto Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo Noi ci vediamo